Una partita. I grandi momenti derivano da grandi o po' grandi o po' grandi o po' grandi. Perché il mondo non è tutto rosa e fiori. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Date il massimo. Di più non posso chiedere. E questo è quello che avrete stasera, ragazzi. Se ne giocassimo dieci, loro ne vincerebbero nove. Ma non questa partita. Non, non da sì, non da sì, non da sì. Forza il nostro maletto! Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incarti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Rialzarti, così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne vai in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I migliati fanno così e tu non lo sei! Non lo stai a posto! Vittoriosi o sconfitti, usciremo da questo stadio stasera con la testa alta. Grazie! 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 Grazie!